È normale che quando vuoi iniziare a mangiare bene devi togliere, eliminare un po' il piacere. Difatti quelli che oggi mangiano veramente bene sono quelli che dicono no, io mangio senza, mangiano senza sale, inizia a mangiare senza olio, mangi senza zucchero. Ieri sono andato a casa di un amico estremamente salutista, abbiamo mangiato senza sedie. Ho detto ma che cazzo dobbiamo fare? Fa mangia e cammina che digerisci, via che siamo partiti con sta zuppa così a correre attorno al tavolo. Ho detto boh, forse a questo il sangue gli va tutto alle gambe, però al cervello non gli arriva un cazzo. Vai mangia, mangia. Però ragazzi lo devo ringraziare perché ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè io praticamente con un litro di zuppa faccio 15 chilometri. Sono un diesel praticamente no? Quelli che ti dicono no, e beh grazie, bravo, però devi togliere anche il cioccolato, è buono il cioccolato? No, però ti fa male il cioccolato, tu lo devi togliere, ma a me mi piace. No, anche a me piace, però quando mi viene voglia di cioccolato, io mi soddisfo con una carota. Che tu dici va bene amico caro, però come è notorio, no, la cioccolata sopperisce a una carenza affettiva, quindi quando sei triste tu ti infili una bella barretta di cioccolato in bocca e dici come godo. Ecco, per dire la stessa frase, la carota, dove te la devi? Non mi fare parlare. Devi togliere, togli, 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 il pane, il pane è buono, il pane è certo che è buono, però fa ingrassare, è tutto amido, zucchero, colesterolo, togli il pane, vabbè al posto il pane e ti mangi un'altra roba, tipo, è tipo le gallette di riso, no, dico di commestibile, cosa mi devo... E le gallette di riso, allora ragazzi hanno fatto uno studio sulle gallette di riso, proprio l'hanno detto i dottori, fanno cacare, cioè fanno proprio cacare, le gallette di riso fanno schifo, cioè io penso che le gallette di riso non sono da mangiare, vanno bene per imballare un vaso di Swarovski, capito, tu devi traslocare, hai del polistirolo? No, dammi quelle cazze di gallette di riso, le sbriccioli, e chiudi il pane, cos'è? Io ho provato, ho fatto la prova del nuovo, ho detto magari non piacciono a noi esseri umani, lo buttate sul davanzale ai piccioni, se ne è arrivato il piccione così, ho visto, ho fatto... E poi un'altra cosa che non va assolutamente bene, che bisogna togliere, è la carne, la carne rossa non ne parliamo, la carne rossa fa male, la carne rossa fa venire le malattie, quelle brutti, quelle incurabili, la carne rossa... ma chi è che ha messo in giro questa voce che... la carne rossa è buona, piace un po' la carne rossa... ma chi è che ha messo in giro questa... chi è che ha messo in giro questa voce... secondo me le mucche, secondo me le mucche sono... sono le uniche che hanno interesse a salvarsi il culo, cioè lo dicono per... capito? Invece a quanto pare non sono state le mucche, ma è stata l'OMS, che non è l'organizzazione mucche spaventate, ma è l'organizzazione mondiale della sanità che ha inserito la carne nel gruppo A dei 116 cancerogeni. Se voi andate a vedere sotto amianto, sotto arsenico, trovate a bistecca, a bistecca. Che cazzo ha messo a bistecca? Ed effettivamente è così, nello stesso gruppo della mortadella c'è il plutonio 239. Allora... no, non è uno scherzo, il plutonio 239 è quella sostanza che hanno utilizzato gli americani per costruire la bomba atomica, quindi la verità è che se gli americani hanno costruito la bomba atomica col plutonio 239 è perché la bresaula non era in offerta. E' questo il concetto. Togli la carne, via la carne, allora dici no vabbè se fa male io la tolgo, la tolgo e cosa mi mangio? Ti mangi le proteine vegetali, le proteine vegetali, dove le trovo? Le trovi nei legumi. Allora tu togli la carne rossa e inizi a mangiarti il legume, ti mangi le lenticchie, però ti viene il dubbio, dici ma quanti legumi servono per fare una bistecca? Ve lo siete mai chiesti? Ve lo dico io. Per fare 100 grammi di carne occorrono 500 grammi di fagioli. E' semplicissimo. Voi la bistecca, arrivi alla mensa dell'azienda e dici vuole la bistecca? No, te la mangi tu. Dammi a me bello 500 grammi di fagioli. La sera prima hai mangiato bello 500 grammi di lenticchie, il giorno dopo bello 500 grammi di fagioli. e tu sei imbottito, che sembri imbottito di tritolo, capito? Tu arrivi davanti all'ufficio, ti mettono una guardia giurata così. Fermo, alta. Dopo vale. Lei è terrorista? No, sono vegetariano io, veramente. Non è che lei spara? A salve. E per oggi è vero. Grazie.